e preghiamo che oggi è una materia molto molto interessante. Nell'ultima lezione abbiamo lasciato Giuseppe in prigione. Abbiamo visto nell'ultima lezione Giuseppe con la moglie di Potifar. Bruttissima situazione, falsamente accusato dalla moglie di Potifar di tentata violenza, la moglie di Potifar lo accusa e Potifar lo imprigiona. Ma la Bibbia straordinaria ci mostra che nonostante questa falsa accusa comunque il Signore benedice Giuseppe perché eravamo lasciati al me pare al trentanove al versetto ventidue del capitolo trentanove dice così così il direttore della prigione anzi il ventuno dice ma l'eterno fu con Giuseppe e osò verso di lui benevolenza cattivando le grazie del direttore della prigione così il direttore della prigione affidò a Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere ed egli era responsabile di tutto quanto si faceva là dentro il direttore della prigione non controllava più nulla di quanto era affidato a Giuseppe perché perché l'eterno era con lui e l'eterno faceva prosperare tutto quanto egli faceva. Alleluia gloria a Dio. Ci siamo fermati a questo punto no? E ci mostra il Signore come è con Giuseppe anche in una situazione terribile come dentro una prigione. Ve la faccio molto corta perché noi dobbiamo arrivare a parlare oggi dell'incontro dopo vent'anni con i fratelli e vi faccio molto corte il passaggio. Lui sta in prigione passa un tempo dentro la prigione in prigione incontra il capo coppiere il capo panettiere del faraone due persone che sono state imprigionate entrambi fanno dei sogni e Giuseppe interpreta questi sogni ad entrambi. A uno era eh che da lì a tre giorni sarebbe stato liberato invece per l'altro il capo panettiere che da lì a tre giorni sarebbe morto. I sogni effettivamente secondo le interpretazioni Giuseppe si avverano e lui dice oh mi raccomando quando ritorni dal faraone al capo coppiere ricordati di me e certamente il capo coppiere si è ricordato e invece no si è scordato di Giuseppe e passa del tempo. Dice la Bibbia che quando Giuseppe ha trent'anni si presenta al faraone perché perché il faraone fa un sogno molto molto importante che credo che eh tutti conoscono. È un sogno che potete andare a leggere nel capitolo quaranta non ve lo sto qui a raccontare comunque questo sogno nessuno sapeva interpretarlo a quel punto il capo coppiere si ricorda di Giuseppe lo fa chiamare a trent'anni quindi dice la Bibbia si presenta davanti al faraone Giuseppe interpreta questo sogno e il sogno profetico avvertiva che ci sarebbero stati sette anni di abbondanza e sette anni di carestia eh ma non solo Giuseppe interpreta il sogno e poteva finire lì il suo mestiere invece il Signore gli ha donato qualcosa di straordinario che è la gestione delle cose e dell'umano perché lui ha fatto questo negli ultimi tredici anni della sua vita Giuseppe gestisce materia praticità nella casa di Potifar e gestisce anche eh i detenuti quindi la parte umana nella parte della prigione quindi Giuseppe è stato addestrato e preparato per questo e la missione che ha oggi è gestire questo sogno infatti lui avrà l'idea data dal Signore una strategia per eh incamerare più grano possibile per poter affrontare i sette anni di carestia e per poter diventare poi la nazione il paese che avrebbe provveduto a dare grano anche a tutti gli altri paesi intorno questa strategia è ovviamente straordinaria e divina e il faraone decide di farlo diventare l'uomo più potente di Egitto dopo di lui questa è il rassunto della storia tanto credo che molti la conoscono se non la potete leggere al capitolo quaranta e quarantuno adesso però arriviamo al punto della questions arrivano i sette anni di carestia quindi se ci sono stati sette anni d'abbondanza Giuseppe ha trent'anni quando si presenta dal faraone a diciassette anni quando viene venduto dai fratelli a trent'anni quando si presenta davanti al faraone quindi tutto il suo calvario diciamo così dura tredici anni eh inizia la carestia quindi sono passati i sette anni di abbondanza ok quindi a trentasette anni o tra i trentasette e trentanove non si capisce bene quanto tempo passa quando effettivamente incontra i fratelli perché perché il cibo comincia a scarseggiare quindi la carestia già iniziata e Giacobbe sente parlare che dall'Egitto c'è abbondanza di grano e quindi manda decide di mandare i suoi dieci figli lui i figli sono dodici compreso Giuseppe e Beniamino ma Beniamino vuole tenerselo per sé perché è l'unico figlio rimasto della sua amata Rachele voi sapete che lui ha dodici figli ma non una sola moglie ha lì a Rachele e poi le due serve quindi lui manda i dieci figli a cercare grano in in Egitto escludendo appunto Beniamino questo ce lo racconta Genesi 42 che dice or Giacobbe venendo a sapere che vi era del grano in Egitto disse ai suoi figli perché vi state a guardare l'un l'altro eh ecco ho sentito dire che vi è del grano in Egitto andate laggiù e comprate del grano per noi affinché possiamo vivere noi e non abbiamo a morire così dieci fratelli Giuseppe scesero in Egitto per comprare il grano quindi eh non so quanta quanti anni di carestia sono già passati se uno o due non 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 lo dice bene questo però sicuramente Giuseppe hai tra i trentasette e trentanove anni stiamo su quella poca lì vuol dire che sono passati vent'anni pieni dall'ultima volta che ha visto i fratelli allora leggiamo il versetto sei di Genesi 42 or Giuseppe era il governatore del paese era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese e i fratelli di Giuseppe vennero e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe ma si comportò come un forestiero con loro e usò parole dure e disse loro da dove venite e si risposero dal paese di Canaan per comprare viveri così Giuseppe riconobbe i suoi fratelli ma essi non riconobbero lui ok fermiamoci un secondo dovete capire che dopo vent'anni in Egitto eh Giuseppe ha assorbito completamente eh gli usi e i costumi dell'Egitto non si presenta come un ebreo in mezzo agli egiziani ma molto probabilmente veste vesti egizie e parla egiziano tant'è che più avanti la Bibbia mi dirà che tra loro e fratelli tra lui e fratelli c'è un traduttore per questo i fratelli sapevano o pensavano credevano di non essere eh ascoltati è molto probabile che le sue vesti il volto il taglio dei capelli lo stesso linguaggio appunto l'idioma ha creato una specie di di maschera che lo ritendeva irriconoscibile ma lui riconosce i fratelli subito allora io non credo che Giuseppe sia stato ossessionato dal ricordo dei fratelli non che non gli provocasse dolore perché poi lo vedremo ma ossessionato da quello che era successo il mio non credere che era stato ossessionato eh è dato dal fatto perché quando qualcuno è ossessionato da qualcosa o da qualcuno da un'offesa che che è stata che ha subito non riesce andare avanti eh non prospera il lo sguardo è sempre rivolto indietro sempre rivolta a quell'offesa non riesce a riconoscere le benedizioni che ci sono di fronte perché questo spettro questo fantasma questo ricordo gli sta sempre davanti quindi lo distrae lo deconcentra gli toglie la concentrazione non riesce a vedere la mano di Dio nella sua vita quando vieni ossessionato da un fatto subito soprattutto da quello che mi è dato vedere capire scatta per una persona che ha abbracciato l'offesa e quasi si nutre di questa scatta l'autocommiserazione scatta il vittimismo peggio ancora scatta il desiderio di vendetta invece qui si ha la netta impressione nella vita di Giuseppe che lui sa vivere il qui e l'ora che è una cosa ehm una filosofia di vita estremamente importante per gli ebrei eh se non io chi se non ora quando è il qui e l'ora il vivere il presente dare il massimo sono responsabile nella casa di Potifar mi concentro su questo e do il mio meglio sono responsabile della prigione mi concentro su questo e do il mio meglio sono responsabile del grano d'Egitto mi concentro su questo e do il mio meglio quindi sembra come se Giuseppe avesse dimenticato comunque eh messo in uno sgabuzzino del suo essere eh la situazione della sua famiglia solo che arriva un punto in cui il passato inesorabile ritorna e il loro incontro questo incontro che Dio eh che l'autore descrive di Genesi eh è fondamentale perché rappresenta una prova per Giuseppe e una prova per i fratelli per entrambi è una prova per Giuseppe forse anche la prova più dura più della schiavitù perché se io non conosco la storia perché noi la conosciamo sappiamo come va a finire ma se tu non conoscessi la storia immagina che arriva questo incontro dopo venti anni dopo che ti hanno fatto il male più male che si possa fare a una persona a renderla il proprio sangue che ti che ti che ti tratta come merce che ti vende che ti rende un un prodotto da commerciare da da dare via e al punto da da mentire al proprio padre allora dopo tutto questo che hai vissuto la tua vita stravolta ecco che arriva il momento in cui incontri il tuo ehm colui che ti ha fatto colui che ti ha fatto male c'è questo momento di suspense io io conosco la storia finale però immagina stai col fiato sospeso e dici che farà Giuseppe si vendicherà sputerà veleno rinfacciando loro tutto il dolore io immagino io nella mia carne vedi che si prostrano si avvera il sogno si avvera il sogno di vent'anni prima e tu con il dito puntato ma non ve l'avevo detto ecco mo morite vede fame poteva 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 usare la sua autorità ma qui inizia un viaggio di prova in prova straordinario sembra duro Giuseppe ma in realtà è una strategia fantastica allora la prima cosa che fa è accusarli di essere spie quando loro si dicono no no stiamo qua per comprare i viveri lui dice che non è vero voi siete qui per spiare il paese voi siete delle spie quindi decide di metterli in carcere per tre giorni perché loro si giustificano e dice no no assolutamente noi siamo figli dodici figli di un un unico padre ehm uno non è più l'altro è rimasto a casa eccetera 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 e e lui ripete no la cosa è come vi ho detto voi siete delle spie e sarete messi alla prova e sarete messi alla prova inizia questo viaggio lui li mette in prigione per tre giorni poi li tira fuori ne lascia dentro uno solo che è Simeone e gli dice se è vero quello che dite tornate a casa date da mangiare alla vostra famiglia perché se non muore e poi tornate e mi riportate il figlio più piccolo ossia mi riportate beniamino che sarebbe il suo fratello fratello al cento per cento della stessa madre dello stesso padre sembrerebbe agli occhi disattenti che Giuseppe è duro cacchio li mette in prigione per tre giorni e sembra che vuole vendicarsi ma non è così perché se voleva vendicarsi poteva usare la posizione che ha come ho detto prima farsi riconoscere subito e sa che ucciderli e aveva tutto il potere di farlo invece mette in pratica queste strategie vi faccio una apro una chiude una parentesi che c'entra tutto eh in Genesi eh quarantadue al versetto cinquantuno e quarantadue no quarantuno quarantuno eh in Genesi quarantuna al versetto cinquantuno parla della nascita dei figli di Giuseppe guardate come chiama il primo Giuseppe chiamò il primo genito manasse perché disse Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre al secondo invece pose nome Efraim perché disse Dio mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione manasse la sua radice eh ha proprio a che fare con la dimenticanza manasse vuol dire che causa dimenticanza che fa dimenticare manasse è il simbolo di un nuovo capitolo di una nuova storia di un nuovo tempo e Efraim vuol dire doppiamente fruttifero Giuseppe desidera dimenticare la casa di suo padre e diventare egiziano desidera farsi assorbire da quel popolo che a differenza dei fratelli è vero che l'ha imprigionato e falsamente accusato per un tempo però è vero quindi che è stato imprigionato e tutto però questo paese lo ha riconosciuto e lo ha promosso lo ha riconosciuto cosa che i fratelli non hanno mai fatto allora tu pensi di aver dimenticato manasse hai pensato di aver dimenticato eri talmente preso da quello che dovevi fare appunto non eri ossessionato da questo ruolo della famiglia era come c'era ma era un eco lontano ma nel momento in cui Dio ti mette davanti i fratelli è come se una volta ho avuto una sensazione non paragonabile ma simile è come se a un torto subito non lo metti da parte lo metti in un cassetto e vai avanti con la tua vita perché devi fare delle cose importanti ma a un certo punto Dio decide di aprire quel cassetto perché non l'hai risolta la questione l'hai solo messa da parte l'hai solo dimenticata ma non è risolta è ancora dentro di te è ancora lì che gira l'hai messa in uno sgabbuzzino è vero non lo vedi ma lo sgabbuzzino sta comunque dentro la casa sta comunque dentro di te quindi necessario proprio farla uscire e risolverla totalmente quindi il vederli capisce che il passato non è stato dimenticato e e vederli fa diventare fa tornare tutto a galla questo è il tempo degredato da Dio per essere guarito nell'anima tra le altre cose voleva dimenticare ma il vederli riaccende lui il desiderio di vedere i padri il padre il fratello la famiglia chiede chiede dove sta come sta se è vivo allora Giuseppe in questo caso è molto chirurgico non si lascia trasportare dalle dalle emozioni se ci fate caso non si non trapela molte emozioni a parte un momento più volte dove dice che piange ma Giuseppe è molto clinico sa quello che deve fare usa la logica usa la testa Giuseppe vuole capire Giuseppe se questi venti anni sono stati in grado cioè questi venti anni sono stati in grado di cambiare Giuseppe lui vuole capire se questi venti anni sono stati in grado di cambiare anche loro hanno mantenuto una bugia infida e terribile davanti al padre per oltre vent'anni gli hanno detto che il figlio era morto ma la cosa piatto che stavo pensando è che in questi venti anni nessuno di loro è andato a cercarlo nemmeno Ruben che all'inizio voleva difenderlo che voleva tirarlo fuori dal pozzo neanche lui in venti anni è andato a cercarlo nessuno si è pentito in questi venti anni ecco che Giuseppe quindi li mette alla prova gli chiede di portare il fratello e loro ritornano effettivamente indietro Simeone rimane in carcere e lui fa mettere i soldi dentro la sacca del grano che hanno comprato i soldi che loro hanno portato per pagare il grano Giuseppe li rimette dentro la sacca poi vado avanti veloce perché il capitolo comunque lungo gli fa un'altra prova quando loro effettivamente ritornano col fratello dopo un bel po' eh dopo un bel po' ritornano con Beniamino li accoglie con un grandissimo e meraviglioso banchetto e mangiano e bevono e ridono e quando si rispediscono quando si allontanano di Giuseppe Giuseppe fa mettere la sua coppa d'argento nel sacco di Beniamino e grida al ladro Giuseppe loro si spaventano e sanno che non hanno preso nulla e dice la persona che avrà preso questa coppa sarà tu schiavo perché lo dico perché sono sicura perché non l'abbiamo preso nessuno di noi invece si va a aprire il sacco di Beniamino e guarda caso la coppa stava proprio lì Giuseppe li mette alla prova ma in realtà è come se stesse preparando per loro un cammino di retenzione la prima cosa che fa seguitemi bene io sto andando veloce sul racconto di quello che è successo perché spero che lo abbiate già letto comunque potete leggerlo in Genesi 42 e 43 e 44 io faccio un riassunto della situazione ma dico che ha preparato un cammino di retenzione perché la prima cosa che fa è togliere loro la libertà li mette tre giorni in prigione la stessa cosa che è accaduta a lui quando la sentenza gli cade addosso quindi che saranno messi in prigione che c'è questo problema che devono portare Beniamino che devono andare dal padre che già è angosciato per aver perso un figlio che non vuole assolutamente perdere Beniamino Ruben quando cade addosso questa angoscia di essere imprigionato pensate state in un paese straniero c'è la carestia il tempo è difficile quest'uomo sembra avercela con voi e arriva e sale l'angoscia e guardate Ruben che dice convinto che Giuseppe non lo capisse perché appunto c'era un interprete in mezzo al capitolo 42 al versetto 21 dice allora si dicevano l'un l'altro noi siamo veramente colpevoli nei confronti di nostro fratello perché vedemmo l'angoscia dell'anima sua quando egli ci supplicava ma non gli demmo ascolto ecco perché c'è venuto addosso questa sventura Ruben rispose loro dicendo non ve lo dicevo io non commettete questo peccato contro il fanciullo ma non mi deste ascolto perciò ecco ora ci si chiede conto del suo sangue allora adesso dopo vent'anni per la prima volta stanno passando per la stessa cosa che ha passato Giuseppe e all'improvviso guarda caso gli esala alla mente il loro peccato e il loro misfatto in quel momento esatto diventano empatici capiscono la cosa interessante riguarda del versetto dice vedemmo l'angoscia dell'anima sua quando ci supplicava ma non gli demmo ascolto vi faccio notare questo perché nel capitolo trentasette quando si descrive eh questo fattaccio c'è il silenzio di Giuseppe la Bibbia non mi riporta che abbia detto qualcosa non mi dice che ha supplicato probabilmente sicuramente l'ha fatto certo che avrà supplicato ma nel trentasette non me lo racconta me lo dice adesso eh me lo dicono adesso i fratelli adesso riescono a sentire quello che non avevano sentito prima improvviso si svegliano e legano la loro situazione a quella che loro stessi hanno fatto passare a Giuseppe adesso sentono quell'urlo quel grido quella supplica che non avevano sentito vent'anni prima finalmente ascoltano il grido che c'è stato quindi Giuseppe mette in carcere Simone lui ascolta queste parole loro non sanno che lui lo può capire e piange si nasconde e piange sta ricominciando a a nascere una cura per entrambi mette in carcere poi Simeone ossia la seconda prova che fa è allontanare un membro della famiglia da tutti gli altri lasciando questo membro della famiglia in un paese straniero nelle mani di gente straniera alla mercè di altre persone così come lui ha passato la stessa cosa Giuseppe voleva che facessero un cammino di teshuva se vi ricordate se qualcuno che segue le lezioni la teshuva è un cammino di ritorno è un pentimento è un è un ammettere il peccato capire comprendere ritornare verso la strada corretta e lui per fare questo come ho detto prepara delle prove affinché questo sia possibile ora arriva alla fine i fratelli sono ritornati con gran fatica perché il padre non voleva lasciare andare beniamino ma quando finisce il grano sono costretti a ritornare quindi passa anche un bel tempo in cui Simeone rimane in prigione sono costretti a ritornare e e quando appunto beniamino ritorna gli mette la coppa nel sacco di beniamino io ho contato più o meno tre prove come tre prove sono state quelle che ha affrontato Giuseppe prima venduto poi falsamente accusato poi mandato in prigione anche lui quindi anche Giuseppe manda in prigione le accusa e minaccia di schiavitù perché al versetto al capitolo 44 al versetto 4 dice erano appena uscite dalla casa dopo che sono tornati con beniamino eh che hanno fatto questo banchetto straordinario beniamino ha ricevuto un sacco di regali e un sacco di cibo alla fine si salutano e loro vanno via ma mentre escono dalla città non erano ancora lontani dice il verso 4 di 44 Genesi 44 quando Giuseppe disse al maggiordomo di casa sua levati insegui quegli uomini e quando li avrai raggiunti di loro perché avete reso male per bene non è quella la coppa in cui il mio signore beve e della quale si serve per indovinare avete fatto male a fare così e egli li raggiunse e disse loro queste parole il maggiordomo allora gli rispondono perché il mio signore ci rivolge parole come queste lungi dai tuoi servi il fare una tale cosa ecco non ti abbiamo riportato dal paese di Cana il denaro che avevamo trovato nella bocca dei nostri sacchi perché loro quando sono ritornati subito si sono giustificati dicendo che non è colpa loro non sanno come mai c'era il denaro nel sacco e gliel'hanno riportato eh come avremmo potuto rubare dell'argento o dell'oro nella casa del tuo signore quello dei tuoi servi questo dice dicono loro attenzione quello dei tuoi servi presso il quale si troverà la coppa sia messa a morte e noi pure diventeremo schiavi del tuo signore erano sicuri nessuno di noi ha rubato quindi posso fare questa questo voto e gli disse bene sia fatto come dite colui presso il quale la coppa si trova sarà mio schiavo e voi sarete innocenti così ciascuno di loro si affrettò a mettere a terra il suo sacco e ciascuno aprì il suo una alla volta immaginatevi Simeone Ruben Levi Giuda Issacar uno per uno il maggior dopo li frugò cominciando col maggiore per finire col più giovane e la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino stiamo leggendo il versetto dodici di Genesi quarantaquattro allora essi si stracciarono le vesti questo gesto lo vedrete molto spesso nell'antico testamento ma anche nel nuovo con il sacerdote Caifa quando qualcosa di molto profondo ti tocca questo stracciare le vesti è una è un'azione fisica per mostrare qualcosa che accade nell'interno dentro di te e ricaricarono ciascuno il suo asino e ritornano dentro la città Giuda e suoi fratelli arrivarono alla casa di Giuseppe che si trovava ancora là e si gettarono a terra davanti a lui e Giuseppe disse loro che azione è questa che avete fatto non lo sapete che un uomo come me è in grado di indovinare ovviamente no Giuda rispose che diremo al mio signore quali parole useremo o come ci potremmo giustificare Dio ha ritrovato l'iniquità dei tuoi servi ecco siamo schiavi del mio signore tanto noi quanto colui in mano del quale è stata trovata la coppa Giuseppe disse guardate Giuseppe qui si sta sta arrivando al culmine della prova lungi da me il fare questo l'uomo in mano del quale è stata trovata la coppa sarà mio schiavo quanto a voi ritornate in pace da vostro padre questa è la prova finale Giuda hanno ascoltato tutti questa questa sentenza che arriva su di loro eh io ho saltato delle parti ma quando gli hanno detto al padre che devono tornare ma con Beniamino il padre si oppone e con molta forza non vuole perdere anche lui ha già perso Giuseppe ha perso anche Simeone perché era in carcere non poteva permettersi di perdere anche il suo figlio amato Beniamino eh allora ecco il clou della situazione ve lo leggo perché è molto bello allora Giuda si accostò a Giuseppe e disse di grazia signor mio permette al tuo servo di far udire una parola al mio signore e non si accenda l'ira tua contro il tuo servo perché tu sei come il faraone Giuda inizia una specie di erringa eh mette su una tesi straordinaria per difendere la vita di Beniamino eh il mio signore interrogò i suoi servi dicendo avete voi padre o fratello e noi rispondemmo a mio signore abbiamo un padre che è vecchio che è vecchio con un giovane figlio natogli nella vecchiaia suo fratello è morto così è rimasto l'unico figlio di sua madre e suo padre che l'ama badate bene come hai evidenziato anche il Beniamino era un figlio amato allora tu dicessi ai tuoi servi portatelo perché lo possa vedere con i miei occhi e noi dicemmo al mio signore il fanciullo non può lasciare suo padre perché se lo dovesse lasciare insomma suo padre morirebbe ma tu dicesti ai tuoi servi se il vostro fratello più giovane non scende con voi voi non vedrete più la mia faccia così quando fummo risaliti dal tuo servo mio padre gli riferimmo le parole del mio signore allora nostro padre disse tornate a a comprare un po' di viveri noi rispondemmo non possiamo scendere laggiù solo se noi possiamo scendere laggiù solo se il nostro fratello più giovane verrà con noi scenderemo perché no perché non possiamo vedere la faccia di quell'uomo se il nostro fratello più giovane non è con noi e il tuo servo mio padre ci rispose voi sapete che mia moglie mi partori due figli giuda sta facendo un riassunto di tutta la storia tutti i capitoli stanno in questo riassunto in questa ringa gli sta rifacendo riportando alla mente come sono stati onesti perché sono stati onesti in questo frangente dall'inizio alla fine il tuo servo mio padre ci rispose voi sapete che mia moglie rachele mi partori due figli uno di essi mi lasciò e io dissi certo egli è stato sbranato e non l'ho più rivisto da allora pausa giuseppe non sa quello che è successo al padre giuseppe non sa che i fratelli hanno mentito dal padre noi lo vediamo dalla bibbia e leggiamo ma voi dovete immedesimarvi in giuseppe voi siete stati venduti e state in terra straniera quello che è successo con i fratelli voi non potete saperlo non potete sapere che loro hanno preso le tue vesti li hanno macchiati di sangue sono andate da vostro padre e gli hanno mentito spudoratamente adesso giuseppe lo scopre se giuseppe pensava che magari il padre anche lui non si era interessato a cercarlo in questo momento scopre la verità ossia che è stato mentito che è stato ingannato che pensava fosse stato sbranato guarda che non dice che è certamente morto è come se avesse una speranza di rivederlo e non l'ho più rivisto da allora or se mi toglie sta anche questo e se gli avviene qualche disgrazia voi farete scendere nel dolore la mia che inizia nella tomba ordunque continua giuda quando giungerò dal tuo servo mio padre se il fanciullo non è con noi poiché la sua vita è legata a quella del fanciullo avverrà che appena avrà visto che che il fanciullo non è con noi chi morirà e i due servi avranno fatto scendere nel dolore la canizia del tuo servo nostro padre nella tomba e qui conclude giuda con la sua decisione finale gli ha fatto tutta questa introduzione tutto questo riassunto che giuseppe sapeva in parte che protagonista che ha fatto tutto questo riassunto per fargli capire che il problema vero era il padre che sarebbe morto di dolore e per sensibilizzare questo gran visir perché loro non vedono giuseppe loro vedono il gran visir d'egitto ed ecco la ringa finale con la conclusione or siccome il tuo servo giuda che parla eh si è reso garante del fanciullo presso mio padre gli ha detto se non te lo riconduco sarò per sempre colpevole verso mio padre beh permettimi ora che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore al posto del fanciullo e che il fanciullo se ne torni con i suoi fratelli poiché come potrei ritornare da mio padre se il fanciullo non è con me ah che io non veda il dolore che coglierebbe mio padre al 45 versetto 1 dice allora in quel momento giuseppe non poteva più contenersi di fronte a tutti gli astanti fece uscire tutti e scoppiò in un grande pianto giuseppe ecco la prova finale gliene ha fatte passare un po' giuseppe per mettere alla prova questi fratelli che sono stati così terribili con lui ma nella prova finale giuda è pronta a dare la propria vita come schiavo in cambio della libertà del fratello minore avrebbero potuto comportarsi e niente glielo vietava come avevano fatto con giuseppe liberarsi dal fratello liberarsi dal preferito del padre perché lo ripete più volte il fanciullo che mio padre ama la vita di mio padre è legata al fanciullo ma questa volta non lo fanno in passato giude e gli altri non riconoscevano giuseppe come il fratello lo odiavano lo invidiavano sono ripeto sono riusciti a trattarlo come merci di scambio come niente però con beniamino dopo tutto questo accadimenti dopo questi accadimenti con beniamino a quanto pare finalmente sono pronti a comportarsi come fratelli veri la situazione adesso si è capovolta ora è giuda ora è giuda è pronto a prendere il posto di schiavo questo è il momento chiave della storia giuseppe ora capisce che davvero qualcosa è cambiato così chiede a tutti di uscire nel capitolo 45 rimane da solo coi fratelli e si fa conoscere allora immaginate il colpo che gli prende a tutti perché davanti a loro ripeto non guardatelo con gli occhi della bibbia in questo momento guardatelo con gli occhi di giuda di rube di simeone davanti a loro c'è il gran visir d'egitto l'uomo più potente dopo il faraone e questo gran visir d'egitto da egiziano dal parlare in egiziano comincia a parlare in ivrit comincia a parlare in ebraico e gli dice sono giuseppe al versetto tre dice io sono giuseppe anni giuseppe e mio padre ancora in vita la prima preoccupazione di colui che voleva dimenticare e che invece ha capito l'amore che non ha mai smesso ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sgomenti dalla notizia dalla sua presenza allora li fa avvicinare e gli dice avvicinatevi a me quelli si avvicinarono gli disse io sono giuseppe vostro fratello che voi vendeste perché fosse condotto in egitto ma ora non vi contristate e non vi dispiace di avermi venduto perché io fossi condotto qua giù perché dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi in vita infatti è già due anni che vi accarestia nel paese ok sono due anni quindi a 39 anni giuseppe e vi saranno altri cinque anni durante i quali non vi sarà né aratura né messe ma dio mi ha mandato davanti a voi perché sia conservato per voi il residuo sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione non siete dunque voi che mi avete mandato qui ma è dio che mi ha stabilito come padre del faraone come signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'egitto allora eh fine adesso vi ho raccontato la storia vi ho raccontato una determinata prospettiva perché io ci vedo delle prove per una redenzione eh ma quella cosa la cosa che mi ha toccato è questa parte e verso questa mi accingo a a terminare per tre volte giuseppe in questo passaggio da cinque a otto da genesi quarantacinque versetto cinque fino a otto per tre volte nomina il nome di dio dio mi ha mandato davanti a voi versetto sette ma dio mi ha mandato davanti a voi versetto otto non siete dunque voi ma è dio che mi ha mandato qui allora io avendo fatto lo studio anche il primo eh il secondo con la moglie di potifar abbiamo parlato molto del timore di giuseppe del timore di dio la legge vi ricordo che ancora non è stata data mosea ancora doveva nascere non aveva i comandamenti giuseppe ma giuseppe temeva l'eterno e solo chi teme dio in questo modo chi teme il signore e ripeto timore non è avere paura timore è una è un elevato rispetto solo chi teme dio sa perdonare davvero e riesce a vedere nel suo vissuto la mano di dio è il piano perfetto perché se tu temi dio in tutti i passi tu sai perché sai che ogni passo che fai è determinato da dio anche il più brutto allora dio mi vuole male no se la tua vita è legata a dio se osservi attentamente la sua parola se ce l'hai davanti tutti i giorni della tua vita anche se sta in prigione tu sai che quel male lo trasformerà in bene perché se non fosse stato nella casa di potifar se non fosse andato in prigione giuseppe non sarebbe stato pronto a gestire l'egitto avrebbe sicuramente interpretato i sogni ma non avrebbe gestito l'egitto sono stati anni di prova e di preparazione se tu temi il signore tu guardi la cosa dall'alto non dal basso non da davanti hai un muro davanti se tu lo vedi dal basso il muro enorme ma noi siamo seduti nei luoghi celesti e noi abbiamo la capacità di vedere le cose dall'alto di vedere le cose che ci accadono anche le più brutte in un'alta prospettiva questa è una prova che il signore permette per testare il mio carattere per mettermi alla prova perché quando una spugna sai le spugnone quelle grosse per lavare la macchina quando è piena tu non riesci a vedere che il liquido c'è dentro come fai a saperlo la devi strizzare allora si vede che il liquido esce sei acqua sei aceto ecco le prove fanno questo ci strizzano per vedere cosa esce da noi escono lamentele escono desiderio di vendetta escono ritorzioni esce condanne verso dio o verso l'altro oppure esce il timore di dio questo ha fatto uscire giuseppe il timore di dio al capitolo 50 la storia va avanti perché tutto molto bello tutti felici giuseppe riserva per loro e per il padre la terra di goshen una terra abbondante prospera fa chiamare il padre c'è questa carrabbata meravigliosa tutti piangono tutto molto bello e si va avanti a un certo punto il papà muore giacobbe muore e guardate che succede con i fratelli al versetto 15 di genesi 50 ultimo capitolo del libro di genesi e della vita di giuseppe al versetto 15 dice i fratelli di giuseppe quando videro che loro padre era morto dissero guardate che pensano eh chissà se giuseppe non nutra rancore verso di noi e non ci renda tutto il male che gli abbiamo fatto allora mandarono a dire a giuseppe tuo padre prima di morire diede quest'ordine dicendo così dire da giuseppe dè perdona ora i tuoi fratelli loro misfatto e loro peccato perché ti hanno fatto del male dè perdona dunque ora il misfatto dei servi del dio di tuo padre come è difficile farsi riconoscere da chi non teme dio perché questi fratelli più volte hanno dimostrato che gli mancava il timore di dio Levi ha sbagliato Simeone ha sbagliato Giuda se leggete la loro storia hanno sbagliato molti di loro di giuseppe non si racconta un solo scivolone è uno dei pochi personaggi biblici insieme a Daniele insieme a Mardokeo dove non si racconta un solo scivolone spirituale Giuseppe li ascolta e piange non so se effettivamente è una menzogna quella che raccontano ed è molto probabile che sia così e non so se piange per questa menzogna o perché gli ha creduto solo che i fratelli hanno paura non è che Giuseppe ci ha mentito non non li conoscono non conoscono Giuseppe in un mondo corrotto attalizziamola oggi in un mondo corrotto come quello che viviamo noi quando qualcuno fa una buona azione viene accolta sempre con diffidenza perché pensano sempre che ci sono dei secondi fini perché perché proiettano sull'altro quello che loro farebbero ma fatto del bene chissà che vorrà la morale è che non importa quello che pensano tu continua a fare il bene Paolo lo dice non stanchiamoci di fare il bene il romano lo dice non date il male non rispondete al male con il male ma rispondete al male con il bene non c'è scritto quindi che Giuseppe che Giacobbe effettivamente abbia detto queste parole è molto probabile ripeto che se lo siano inventate per far cadere il senso di colpa e di dovere anche su Giuseppe ma la cosa straordinaria è questa è il versetto successivo quando dice al versetto 18 dice poi vennero anche i suoi fratelli gli si gettarono davanti a lui e dissero ecco siamo tuoi servi Giuseppe disse loro non temete sono io forse al posto di Dio voi avete macchinato del male contro di me non l'hanno capito anni prima quando gliel'ha detto che è stato Dio a mandarlo lì allora glielo ripete un'altra volta voi avete macchinato del male ma Dio ha voluto farlo servire al bene per compiere quello che oggi avviene conservare in vita un popolo numeroso vi ricordo che quando sono entrati erano i dodici fratelli mogli e figli non era ancora un popolo numeroso ma nella terra di Goshen cominciano a prosperare a fare figli dei figli ora dunque non temete io provvederò il nutrimento per voi e per i vostri figli così li confortò guardate che straordinario così li confortò e parlò il loro cuore con non solo Giuseppe di fronte a questa molto probabile ennesima menzogna non si arrabbia ma non avete capito in niente che io sono cambiato che io ho capito che io temo il Signore no lui spiega chiaramente il piano di salvezza che Dio ha attuato tramite Giuseppe e parla loro con dolcezza Giuseppe è un uomo integro Giuseppe teme Dio e questo questo demere il Signore lo salva questo demere il Signore lo salva da Potifar lo salva dalla prigione lo salva dal faraone questo timore di Dio gli permette di fare sempre la cosa giusta anche quando non capiva Giuseppe vive nella pelle i comandamenti che ancora dovranno essere dati Giuseppe mostra con la propria vita cosa può fare Dio nella vita di chi osserva la parola di Dio e di chi lo teme lo mostra con la propria vita in nessun momento e con nessuno Giuseppe restituisce il male con male non racconta della moglie di Potifar non racconta di Potifar stesso Giuseppe va avanti come un treno io c'ho da fare io devo salvare un intero popolo io non mi posso perdere in queste cose perché chi teme il Signore ha la visione dell'alto ha la visione di Aguila ha la visione dell'alto le cose anche grandi Dio dall'alto sono piccole è facile guarda sì per chi teme il Signore sì non è facile per chi ha ancora molta carne sulla brace e allora deve fare uno sforzo maggiore ma chi ha grande intimità col Signore chi prega chi lo cerca chi si sforza giornalmente di fare la sua volontà è molto più facile affrontare le intemperie della vita è molto più facile chi teme Dio alla sua visione e la sua prospettiva infatti Giuseppe legge tutta la sua vita con gli occhi di Dio lui sta leggendo tutta la sua vita con gli occhi di Dio non avete fatto voi non mi avete mandato voi ma come no ti hanno venduto l'oro no il Signore l'ha permesso ha trasformato la maledizione in benedizione voi avete macchinato il male ma Dio l'ha trasformato in bene per salvare un intero popolo sarebbe più facile odiarli sarebbe più facile farsi trasportare dalle emozioni rivendicare e credere giustizia sarebbe così facile e giusto magari poteva vendicarsi e poteva farlo la sua posizione glielo permetteva farsi guidare dai sentimenti è molto più semplice non occorre sforzo invece Giuseppe guarda tutto tutto da un'altra prospettiva e tutto ha un senso al punto che riesce a eclissare e a perdonare i fratelli per quello che gli hanno fatto e gli dice li rassicura cioè lui li rassicura gli dice non temete sono io forse al posto di Dio perché lo dice Giuseppe? e ripeto non ancora la legge guardate quest'uomo quanto temeva Dio quanta illuminazione aveva significa che ha lasciato a Dio l'onore l'onere del giudizio e della vendetta lo lascio a Dio sono io forse Dio? avete paura di me? ma io non vi posso fare nulla sono io Dio? mi metto io al posto di Dio? mi metto io a mandarvi giudizio e vendetta? non ci dovremmo mai sporcare mai sporcare non le mani ma l'anima cercando di vendicarci non ci dovremmo mai sporcare la nostra anima che con gran fatica da quando abbiamo ricevuto il Signore stiamo lavando giorno dopo giorno rinnovando la mente non dobbiamo sporcarla per vendicarci e nel versetto 17 del capitolo 59 di Isaia Isaia 59 17 c'è un versetto molto interessante che dice si è rivestito di giustizia come di una corazza e si è posto in capo l'elmo della salvezza perché se studia la Bibbia forse gli si accende un campanellino non vi ricorda forse Efesini 6 quando Paolo parla della corazza e dell'armatura di Cristo ma in Isaia 59 va avanti e dice ha indossato gli abiti della vendetta e si è ricoperto di gelosia come di un manto è rivestito di giustizia come una corazza si è posto in capo l'elmo della salvezza uguale ma qui c'è un elemento in più che in Efesini non c'è ha indossato gli abiti della vendetta e si è ricoperto di gelosia come un manto questi abiti della vendetta non aspettano a noi per questo Paolo i Efesini non ce li ricorda e non li elenca perché non sono nostri a lui spetta la vendetta noi siamo seduti sui luoghi celesti dovremmo vedere la nostra vita da un punto di vista più alto dal suo non dal nostro allora tutto ci apparirebbe più chiaro più sopportabile se non più leggero e smetterla di stare con la faccia davanti al muro e vederlo enorme e vederlo gigante e non lo sorpasserò e perché mi è stato messo davanti ti fermi e dici signore fammi vedere questo con il tuo sguardo come si può trasformare questa maledizione in benedizione perché allora davvero ripeto tutto è più sopportabile e leggero perché è leggero perché lo dice anche Cristo prendete su di voi il mio gioco che è leggero è leggero perché perché lo porta con noi perché non lo porta da solo perché chi è in Cristo lo sforzo c'è quando ci ostiniamo a non voler crescere si sforza chi è negligente nel pregare nel leggere nel meditare la parola allora quando arrivano le tempeste certo che c'è uno sforzo perché fai le cose nella carne ma in questa situazione quando arriva la tempesta è molto più facile affrontarla se sei una sola cosa con Dio perché se sei una cosa sola con Dio puoi entrare nella fornace ardente puoi entrare nella fossa dei leoni puoi naufragare puoi essere morso da un serpente tutto lo vivrai in modo leggero perché tu avrai una visione diversa da tutti quanti perché avrai la visione di Dio cercate la visione di Dio temete Dio io credo che alla fine di tutti questi tre insegnamenti il succo di tutto è questo temete Dio allora ci può essere prigione false accuse essere venduti denigrati tolti la dignità se temi Dio riuscirai a passare tutto questo e ad arrivare alla missione finale che è quella che conta nel caso di Giuseppe salvare un intero popolo se non era per lui non sarebbe arrivato il Messia perché arriva per la linea di Giuda ma Giuda stava a Canaan si sarebbe morto di fame temere Dio è il succo di tutto anche per affrontare le cose più spiacevoli che la vita ci può presentare ma con il Signore e con la sua visione io so che possiamo assolutamente Dio può assolutamente trasformarlo farlo servire per il bene come dice Giuseppe Amen Ve Amen Grazie a tutti